La mafia palermitana sotto scacco, continue vittorie dello Stato nonostante la penuria di magistrati. È uno dei punti principali affrontati dal Presidente della Corte di Appello di Palermo, Matteo Frasca, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La pressione giudiziaria sulla Cosa Nostra della provincia di Palermo, scrive nella sua relazione, ha raggiunto la massima intensità. Ogni mese di regola vengono eseguite alcune decine di misure cautelari detentive. L'efficacia del contrasto sarebbe notevolmente incrementata se i tempi di decisione del GIP non fossero, soprattutto per carenza di magistrati e di personale amministrativo, eccessivamente dilatati, anche se recentemente si nota una riduzione dei tempi di attesa. Nonostante ciò, l'attuale livello di contrasto alla Cosa Nostra palermitana si caratterizza spesso per una notevole tempestività. Ma la mafia è in grado di risollevarsi, avverte. Cosa Nostra continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio, scrive Frasca. Se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione, va sottolineato che nell'anno in corso le denunce sono state ben 151 a fronte delle 65 e 69 dei due anni immediatamente precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un aumento di ben il 132%. Un passaggio della relazione è dedicato alle dinamiche in provincia di Trapani, che hanno registrato ancora il potere mafioso saldamente nelle mani della famiglia Messina Denaro, che vanta un elevato novero di suoi componenti che hanno ricoperto e ricoprono tuttora ruoli di assoluto rilievo all'interno dell'intera provincia mafiosa trapanese. Analizzando i dati trasmessi al procuratore Francesco Lovoi, capo della DDA del distretto, la relazione prosegue. L'azione investigativa portata avanti dalle diverse forze di polizia sotto il coordinamento della DDA, finalizzata a localizzare il latitante e a disarticolare il reticolo di protezione che consente a Matteo Messina Denaro tuttora di mantenere la latitanza e governare il traiettorio trapanese, ha prodotto nell'anno diversi arresti, anche vicinissimi al contesto relazionale del latitante. Grazie a tutti.